un cordiale saluto da Palermo per questo derby delle isole tra Palermo e Cagliari ovvero la Sicilia e la Sardegna partiti prima di campionato dunque qui in Sicilia Palermo subito all'attacco, Pastore entra per Migliaccio, formato da Perico scontro con l'argentino Buglioz quindi Migliaccio, Matri, Conti, Lazzari avanza Lazzari va al tiro da fuori, c'è la prima parata di Sirigu impegna da fuori Lazzari, vediamo il tiro molto bello, si è dovuto tuffare sulla sua sinistra il portiere del Palermo calcio d'angolo, Ariado alla battuta palla dentro Lazzari, colpo di testa e palla che termina alta ancora Cagliari all'attacco acqua fresca, attenzione, acqua fresca entra, prova il pallonetto non va da limite ha lasciato partire un pallonetto ma lo ha calibrato male quindi palla alle stelle secondo tiro del Cagliari in pochissimi minuti nella porta del Palermo Conti figlio del campione del mondo Bruno Conti tocca verso Costu attenzione Costu va il tiro e c'è il gol gol del Cagliari vantaggio del Cagliari a Palermo con Costu e francamente per quello che si era visto il Cagliari merita questo vantaggio Palermo disorientato ecco il gol di Costu diagonale di destro ben imbeccato da Conti capitano del Cagliari ecco vediamo Conti in quadrato quindi Costu si è liberato del suo marcatore e ha battuto a rete Cagliari 1 Palermo 0 vediamo se il Palermo riuscirà a rimontare Mugnoz riesce a toccarla per Nocerino da questi a Liberani che lascia Hernandez perde la palla quindi ancora Cagliari con l'acqua fresca avanza l'acqua fresca sono a tre quarti tutto solo attenzione acqua fresca nessuno davanti a lui Valtino c'è la parata di Sirigu incredibile azione del Cagliari si è trovato una corsia tutta libera l'attaccante del Cagliari ed è arrivato indisturbato davanti al portiere adesso ancora Cagliari all'attacco attenzione palla dentro Lazzari lascia Biondini fallo laterale Biondini ancora fallo laterale in favore del Cagliari riceve Perico si gira la mette dentro poi allontana la difesa del Palermo Liberani lungo verso Maccarone lancio per Hernandez attenzione Hernandez e va il tiro e la palla termina fuori di poco occasione sprecata perché era solo davanti al portiere Ragazzi e non è riuscito a far meglio che buttarla fuori occasione nitida quindi per il Palermo pastore lascia Mugnoz da questi a Bovo attenzione ancora Hernandez Hernandez va il tiro e ancora palla che termina fuori incredibili gli errori di questo giocatore non riesce a centrare la porta del Cagliari rivio di Ragazzi Conti fallo su Canini calcio di punizione lo batte lo stesso Canini finisce il primo tempo a Palermo Cagliari 1 Palermo 0 riprendiamo il collegamento da Palermo per questo secondo tempo tra Palermo e Cagliari Palermo che soccombe per una rete a zero gol di Cossu Ariaudo Maccarone dietro verso Nocerino da questi a Migliaccio che tocca ancora per Maccarone perde palla Pastori Conti fermato Conti calcio di punizione per questo intervento sul giocatore del Palermo rimane a terra Migliaccio Migliaccio ha recuperato Nocerino Cassani Attenzione Liberani ruba palla dentro per Maccarone ma è troppo corta ancora Liberani Nocerino Lazzari Biondini Matri fermato in tecle da Mugnoz che adesso raggiunge il pallone lo tocca all'indietro verso Cassani Liberani Migliaccio Liberani ancora verso Malzaretti da questi a Cassani Palermo che fatica ad uscire dalla propria metà campo Cassu attorno del gol lancia Matri Matri va al tiro palla che termina fuori non riesce proprio a venire fuori il Palermo Sirigu al rinvio Cassani Bovo Migliaccio attenzione Pastore palla dentro libera la difesa Cagliaritana calcio d'angolo del Palermo Mugnoz la battuta verso Maccarone colpo di testa palla che termina alta di poco Maccarone prima vera occasione del Palermo per questo secondo tempo Maccarone fermato riparte il Cagliari Biondini avanza Biondini attenzione limite entra in area Biondini prova a metterla in mezzo poi c'è Liberani che sbroglia tutto Pastore Maccarone fermato Lazzari Acqua Fresca ancora Acqua Fresca Cassani Bugnoz Migliaccio ormai manca pochissimo al termine tira palla in Cagliari Perico Matri Conti Cosu ancora Conti dentro per Matri calcio di punizione guadagnato dal Cagliari alla battuta Ariaudo palla verso la porta si va a infrangere sulla barriera Migliaccio e finisce no c'è un calcio di punizione in favore del Cagliari Ariaudo palla verso Acqua Fresca ma l'arbitro fischia la fine a Palermo Cagliari 1 Palermo 0 Cosu da Cagliari è tutto linea allo studio scusate da Palermo a Palermo